Quinta edizione di Onda su Onda Radio Libere Festival che torna a Gallipoli con un palinsesto ricco quattro giorni di trasmissioni e 60 ore in diretta in dub web streaming a circa un mese dalla giornata mondiale della radio Sono quattro giorni in cui abbiamo già avuto ieri e oggi così in avanti fino al 12 collegamenti con gli speaker più importanti delle testate editoriali nazionali ed internazionali Continueremo con saggisti i quali hanno un punto di vista straordinario sulla radio, sull'intrattenimento e sulla musica per fornire un punto di vista da chi la radio la fa veramente, prima noi stessi e proprio allora L'evento si conferma l'occasione per festeggiare le radio libere e la loro evoluzione in questi ultimi dieci anni infatti il mezzo radiofonico specchio della società che l'ascolta Il main top concept è quello di divulgare la radio anche con le scoleresche e fargli capire che la radio è un mezzo super importante Con l'evoluzione digitale anch'esso e approdato a internet sono nate infatti le web radio e i podcast Questi strumenti permettono di aumentare ed estendere la fruizione delle radio a qualsiasi momento della giornata e il luogo occupato di creare rubriche di approfondimento e di targettizzare i programmi trasmessi Alla luce di questo celebrare la radio vuol dire anche comprendere l'evoluzione e i possibili scenari futuri per continuare ad utilizzarla come strumento potente di informazione, dibattito, diffusione di musica e idee Vogliamo fare divulgazione, mettere a dimora il seme della consapevolezza con i ragazzi in età scolastica della provincia di Lecce per fornire loro alcuni elementi Elementi che possano far parlare in modo sempre più consapevole del patrimonio più importante che hanno a disposizione ovvero il loro territorio E allora se non devo essere io a dire che la radio è viva A me tocca un piccolo privilegio, gridare insieme a tutti Viva la radio!